E chiudiamo con la rubrica dedicata all'informazione in pillole. Torniamo anche in questa puntata ad occuparci di lavoratori esodati, per alcune indicazioni di dettaglio rivolte in particolare ai dipendenti del settore pubblico. Ce ne parla Ilaria Bonafini, operatrice del patronato Inca della Cigelle di Parma. Con la riforma Monti di dicembre 2011 sono cambiate le normative per accedere alla pensione di vecchiaia e di anzianità per il settore del pubblico impiego. Dal 1 gennaio 2012 i lavoratori e le lavoratrici per accedere alla pensione di vecchiaia dovranno avere almeno 20 anni di contributi e 66 anni di età. Mentre per la pensione di anzianità, che ora è definita pensione anticipata, sono necessarie per le donne 41 anni e un mese di contributi, mentre per gli uomini sono necessarie 42 anni e un mese di contributi. Rimane solo per le donne fino al 31-12-2015 la possibilità di accedere alla pensione di anzianità con almeno 35 anni di contributi e 57 anni di età, optando però per le regole del calcolo contributivo. Altra possibile deroga alla nuova normativa è rappresentata da quanto previsto dal cosiddetto decreto esodati, entrato in vigore il 24 luglio scorso. Questa deroga riguarda in particolare i lavoratori isonerati dai ministeri, gli ex dipendenti i post o resodati e i genitori di figli con grave handicap in congedo biennale. Queste tipologie di lavoratori hanno un ulteriore adempimento da espletare nei confronti della direzione territoriale del lavoro, inviando un'apposita lettera e documentazione a dimostrazione della loro condizione. Ne invitiamo pertanto a fissare un appuntamento con il nostro patronato per l'assistenza e l'istruzione delle pratiche.